salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi proviamo una delle nuove funzioni del dji air 2s questa nuova funzione che si chiama master shot che secondo me è una figata pazzesca spero che venga introdotta presto anche nella versione air 2 perché ragazzi ci permette di fare dei video in maniera super semplice praticamente fa tutto da solo ci crea un video che durerà che ne so 45 minuti di cui avremo ovviamente nel sd questi 45 minuti mentre direttamente nello smartphone cioè nella dj fly appena finito il percorso del volo master shot ci verrà proposto subito un mini video bellissimo che potremo subito modificare cioè cambiare la musica e il tema del video e poi subito condividerlo su whatsapp piuttosto che telegram piuttosto che instagram piuttosto che facebook cioè veramente una figata pazzesca perché ci crea dei video davvero bellissimi anche in una location semplice infatti la prova la sto per fare in questa location semplicissima ma vedrete come queste riprese video fatte in automatico dal dji air 2s ci danno subito una suggestione particolare e un diciamo un effetto cinematografico talmente bello che anche se la location è abbastanza normale acquista subito tanto valore quindi direi di non perdere il tempo e decolliamo quel dj air 2s e proviamo la funzione master shot quindi decolliamo come vi ho detto ragazzi è davvero davvero semplice il risultato è pazzesco adesso andiamo ad un'altezza di 60 metri poi dobbiamo andare a diciamo scegliere un dettaglio particolare di un'area di un edificio cioè adesso giusto per farvi capire il concetto vado a selezionare quel gruppo di piante che ho qua davanti al dji air 2s quindi seleziono l'iconetta di video e foto ok vado a scorrere fin quando mi appare master shot vado a selezionarlo ci dice di selezionare un soggetto vado a selezionare appunto quel gruppo di piante a questo punto diamo start vedete tempo di volo stimato due minuti perché possiamo scegliere la lunghezza in questo momento larghezza lunghezza altezza è tutto su medio quindi vado a selezionare start e parte un candano a questo punto ragazzi fa tutto da solo e la cosa bella che appare la scritta di quello che il drone sta facendo cioè il volo automatico che sta facendo il drone ci viene evidenziato con una scritta ed è veramente bella che questa cosa perché mentre noi osserviamo tutto quello che fa il drone ci fa vedere anche cosa sta facendo il drone e secondo me anche questa cosa è davvero davvero bella e interessante perché comunque ci fa capire tutte le operazioni di volo che avremo poi alla fine qua lateralmente sulla destra oltre che poter interrompere il master shot ci dà la percentuale di tutta l'operazione quindi tutto il video prima del completamento siamo al 33 per cento cioè guardate tutte queste cose fatte in automatico e con una logica nel senso che non c'è nessun pezzo da tagliare quindi lui sta creando un video su un'area che io gli ho indicato ok è tutto in maniera perfetta quindi ogni cosa che fa la fa con una logica è un senso perché appunto poi avendo sempre quell'inquadratura di quella di l'area sono solo le modalità di volo che lui va a integrare e la cosa bella poi ragazzi appunto come vi dicevo prima quello che succede alla fine del completamento del master shot perfetto ragazzi siamo all'87 per cento 88 cioè guardate che cose pazzesche lui fa tutte in sequenza quindi tutto senza nessun parte di video da tagliare è fantastico e questo è quello che avremo nella micro sd del drone quindi tutto quello che avete visto fino adesso è quello che avrete nella micro sd del drone mentre adesso vedete 100 per cento quindi lui ritorna non dal punto di decollo ma dal punto in cui abbiamo avviato il master shot e adesso ragazzi guardate la parte più bella quindi a questo punto lui sta elaborando il video che sembra che non sta facendo più niente ma sta elaborando il video in diretta e tra poco ci apparirà ragazzi un riquadrino qua sulla destra che ci farà appunto vedere l'anteprima del video da condividere eccolo ragazzi vedete che è arrivato il riquadrino è partita anche la musica ed eccolo qua il video diciamo come lui ce l'ha creato e come secondo lui è la creazione migliore per essere condiviso infatti vedete che dura solo 14 secondi cioè nei due minuti circa di registrazione che quello che abbiamo nella micro sd lui ha creato un video di 14 secondi che cliccando poi sulla bacchetta magica qua a destra potremo andare a cambiare appunto il tema e quindi anche la musica quindi proviamo andare a cambiare il tema e mettere un tema diverso che ne so questo col pianoforte o se no possiamo selezionare questo in cui probabilmente ci metterà all'interno del video anche dei disegni guardiamo infatti vedete guardate che figata pazzesca cioè qua ha creato addirittura una sorta di videogioco all'interno del video e tutto vedete in due clic cioè in pochissimo tempo il drone ancora in cielo e qua sopra di me il drone che sta ancora qui fermo in hovering e intanto io sto già guardando il video e lo posso scaricare nel telefono e condivido perché se clicco con la frecciolina in alto a destra lo vado a salvare direttamente nel mio telefono e poi lo posso condividere su whatsapp e sui vari social quindi ragazzi è davvero una cosa pazzesca cioè se vado a cliccare ancora la bacchetta magica vedete che posso selezionare ancora ma sono tantissimi poi i temi selezionabili e quella la parte bella eccone qua subito un altro cioè è fantastico qua subito un altro ancora cioè è incredibile cioè guardate la location che è una location diciamo semplicissima sono solo dei campi agricoli e quest'area in cui ci sono i cavalli però guardate che cosa lui crea senza avere comunque nessuna parte da andare a cancellare ha fatto tutto in maniera perfetta perché comunque il master shot aveva non aveva difetti di diciamo parti di video inutili quindi ragazzi lui ha selezionato solo quello che gli interessava di più di quei due minuti ma già quei due minuti erano perfetti quindi adesso direi di interrompere il master shot di ritornare qua e di andare a fare ritornare il dji air 2s quindi andiamo a fare un return to home e lui adesso ritornerà in teoria qua più o meno spero speriamo di a terra qua vediamo dov'è ok là sopra sta arrivando e vediamo se arri a terra qua vediamo quanto è preciso su quell'angolo qua di cemento sta arrivando eccolo qua vieni vieni così vieni così vieni così che sei perfetto sei perfetto sei perfetto scendi che sei perfetto dai sei perfetto scendi ma sei perfetto vieni giù lo faccio scendere io ragazzi però guardate posso solo il cappello perché ho paura che perfetto cioè vabbè è partito da qua è atterrato qua ha sbagliato di 10 cm però ragazzi dice ha in questo sempre il numero uno ok ragazzi avete visto cos'è questa nuova funzione master shot introdotta da dji per il nuovo dji air 2s speriamo che arrivi anche per la versione dji air 2 chiamiamola così base non versione s perché secondo me è una figata pazzesca secondo me è una delle novità più belle introdotte dji con questo nuovo drone innanzitutto ci permette di avere due minuti tre minuti quattro minuti in base alla lunghezza che andiamo a selezionare della durata del del master shot di un video praticamente già perfetto a livello di riprese video cioè non c'è da fare nessun taglio niente praticamente è già perfetto e in più avete la possibilità di condividere un video che è perfetto c'è un video sembra fatto da un vero professionista di droni quindi è una cosa incredibile poi tutto questo ancora prima che il drone a terri cioè io avevo avete visto il drone in hovering sopra di me lui stava lì e intanto io potevo selezionare il tema quindi la musica e tutto quello che riguardava appunto la tipologia di effetti che volevo nel video ma tutto con un clic e lui era in hovering sopra di me cioè è una cosa che ovviamente nessun altro è in grado di fare dj in queste cose è sempre numero uno ovviamente non solo in queste però in queste cose dj è davvero il top e poi avete visto anche il fatto che questo master shot crea all'interno di una location semplice come questa avete visto alla fine da sopra delle piante e in più avete visto tutti questi quadrati in cui all'interno ci sono i cavalli perché comunque è un maneggio avete visto come all'interno di un effetto video come questo anche una location semplice come questa ha preso molto più valore che se avessi fatto una ripresa classica in cui fossi solo volato intorno o via dicendo quindi anche questa è una cosa da tenere in considerazione quando utilizziamo questi master shot che facciamo acquistare valore anche ad una location non particolarmente spettacolare quindi ragazzi se questo video in cui ho portato sul canale questo nuovo master shot questo nuovo modo di volare in maniera automatica del dj air 2s speriamo anche della versione solo 2 e non s del air 2 vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità curiosità tante prime stampe 3d posti dove vado volare e iscrivetevi se va al mio canale tengono offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere anche un video un vol una recensione un test un tutorial una novità ciao